ciao ragazze e ragazzi e benvenuti in questo nuovo aggiornamento video di chiusura settimanale per quanto concerne la chiusura della settimana del giorno di venerdì perché è legata comunque alle news di mercato ora facciamo il punto sulla situazione sulle notizie di edi che avevamo proprio visto in concomitanza con le 14 e 30 orari in cui di solito vengono immesse le news più importanti comunque sia andiamo subito a visualizzare l'attuale situazione della variazione di prezzo di bitcoin e tenue tutto il comparto che naturalmente bitcoin è scendere dell'1,5 per cento su base settimanale arriviamo quindi a vedere la coin market cap che vede praticamente quasi invariata la market cap complessiva di 938 miliardi di valore e una bidominance di bitcoin intorno al 40 per cento 17.4 stabile quella di ether ma vediamo probabilmente la variazione settimanale delle prime tre posizioni dove tether in un united states dollar tether è alla terza posizione scavalcando bnb e dollaro circle quindi vuol dire che siamo in una situazione di cambio di verso le stable coin dalle crypto visto che c'è stato anche un crollo del prezzo e ha raggiunto qualche prezzo ora andiamo ad analizzare il tutto ma prima volevo dirvi oggi 8,30 8,30 naturalmente americane quindi all'apertura dei mercati alle 14,30 ci sarà il core retail sales mese per mese valore di settembre e quello mensile quindi vedremo naturalmente del 20 dal dettaglio come sono stimate naturalmente i dati principali che hanno visto un aumento delle scuote di magazzino del petrolio a 9,88 milioni di barili contro 1,75 che erano previsti come forecast quindi un dato naturalmente negativo per il dollaro ha avuto naturalmente un aumento del valore da 228 mila richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti mentre l'inflazione ha avuto un'impennata, anzi diciamo si è stabilizzata intorno all'8 per cento con un leggero aumento su base annua dell'8.1 prevista 8.2 questo naturalmente è verde perché è positivo per il dollaro in quanto se noi andiamo a vedere su TradingView e prendiamo naturalmente l'indice del dollaro di XY vediamo che l'indice del dollaro non è che ne ha risentito anzi diciamo che adesso dovrebbe pure salire quindi vediamo che nell'ottica della crescente indicazione tutto si mantiene adesso una certa direzionalità naturalmente questo non è positivo per quanto riguarda gli altri comparti vediamo un attimo come si sta muovendo gli indici del dollaro vedete come è salito anche l'indice del Nasdaq, del Dow Jones, dell'SP500 legati proprio al dollaro quindi positivo il discorso dell'inflazione naturalmente non lo è da altri punti di vista perché comunque sia i mercati hanno avuto un risconto che dal punto di vista del petrolio siamo leggermente adesso stiamo scendendo anche sempre market ovviamente l'oro sta scendendo naturalmente per quanto riguarda gli strumenti delle materie prime ragazzi non è ambito dei video che faccio su YouTube anche se però vi accenno che vista la situazione complessiva dove le valute stanno naturalmente perdendo fiducia dal punto di vista degli investitori che stanno praticamente spostando capitali dall'azionario obbligazione verso altro verso quello diciamo meno ideale meno irreale per quelli reali quindi criptovalute e materie prime l'oro e l'argento saranno soggetti ad esplosione di prezzo nel prossimo futuro anche se in questo momento come potete vedere gli HFD dell'oro sembrano arrancare sembrano non riuscire neanche a muoversi più di tanto ma per il semplice motivo che sono speculativamente manipolati quindi la manipolazione agisce ma prima o poi ci sarà l'esplosione perché dovrà adeguarsi il valore del prezzo dell'oro e dell'argento rispetto al dollaro perché non vale più nulla anche perché ragazzi ci sono anche i BRICS che contrattano materie prime anche con altre valute quindi diciamo che il dollaro si aspetta praticamente questa morte delle valute fiat naturalmente a discapito di altro vedremo chi è che prenderà sopra piede e potenza di fuoco non a caso sto mostrando Bitcoin che seppur sta scendendo nell'ottica del lungo periodo vedremo dove andrà a finire naturalmente guardiamo sempre a livello di candela mensile vedete che il trend è sicuramente rialzista a livello mensile e se vogliamo vederla tutta non per vedere naturalmente dal punto di vista mensile stiamo ballando intorno a questo valore di supporto di 19.500 dollari se ripeto dovesse essere rotto questo valore il prossimo step è intorno ai 16.000 e qualcosa se invece volessimo visualizzare il prezzo di Bitcoin a candela giornaliera vediamo subito che allargando quindi visualizzando i punti di picco ancora non è riuscita a rompere il punto di minimo diciamo lo spike della candela rossa che ha toccato valori dei 17.620 dollari quindi in questo valangente diciamo il prezzo che è sceso nemmeno i giorni di ieri a 18.300 non è riuscito a rompere i precedenti minimi quindi eventualmente dobbiamo pur pensare ma ha toccato il punto di minimo o non l'ha toccato lo vuole ritestare o meno vedremo naturalmente lo sapremo nelle prossime sedute e nei prossimi giorni visto anche le situazioni macroeconomiche guerra eccetera eccetera per quanto riguarda Ethereum sicuramente Ethereum ancora non ha toccato il retest del punto di minimo che aveva toccato in precedenza vedete la candela del 18 di giugno 2022 intorno a vedete abbiamo questa indicazione e vedete l'ha toccato in questo punto e quindi dobbiamo pur verificare come si muoverà se andrà a rompere diciamo i 1080 dollari e quindi a ritestare questo range lateralizzare oppure sfondare ancora di più oppure andare di nuovo su andare verso i 1400 dollari e naturalmente deve mostrare i post naturalmente con tutti gli indicatori eccetera in questo momento le indicazioni sia di macroeconomia che delle indicazioni legate alla blockchain non lo confermerebbero quindi dobbiamo purtroppo attendere notizie nuove dai mercati andiamo a visualizzare adesso a candela oraria Bitcoin dove può essere praticamente a candela oraria vediamo un recupero delle medie mobili a breve periodo quindi quella a 10 e quella a 60 che vanno ad intersecare dal basso verso l'alto la media mobile a 223 periodi quindi praticamente sembrerebbe un recupero almeno a livello orario di certo perché siamo tutto di sopra se vediamo per esempio a candela 4 ore e 4 orario vediamo le 4 ore si sta mantenendo anch'esso proprio in una direzione quasi positiva con una certa forza siamo al 19.800 e invece a candela giornaliera il discorso cambia naturalmente notevolmente perché ci troviamo con le medie mobili quelle importanti quelle lunghe a 223 periodi e quella a 60 periodi al di sopra del prezzo che in questo momento balla intorno alla media a 10 periodi ma comunque debole ristringendo il campo e vediamo qui sembrerebbe di continuazione il trend a candela giornaliera quindi continuazione del ribasso perché questa sarebbe una direzione prevalentemente lineare la vado a disegnare così mettiamo subito una horizontal line e l'altra linea che vorrevo disegnarvi è questa come potete osservare questo triangolo sembrerebbe un triangolo di continuazione vediamo come andrà sia per bitcoin che per iter anche perché se poi andiamo a restringere il campo qui siamo a ridosso di un campo molto ampio dove non ci sono volumi poi naturalmente per quanto riguarda l'investing guide andiamo ad analizzare la situazione europea delle azioni europee stock higher almeno per quanto riguarda il mercato iniziale della giornata in attesa naturalmente delle aperture dei mercati americani potenzialmente UK fiscal U-turn boost sentiment quindi ci potrebbe essere una situazione di potenziamento dal punto di vista dei prezzi e per quanto riguarda il mercato europeo ed investing.com pubblica naturalmente l'articolo che ne parla nel dettaglio sul mercato delle azioni europee quindi almeno per quanto riguarda il trade in questa giornata dovrebbe essere positiva naturalmente ci sono notizie che allarmanti per quanto riguarda Credit Suisse che oltre a problemi di credit default swap molto ingenti addirittura dice volte più grandi come minimo rispetto alla Lehman Brothers del 2008 sembrerebbe addirittura coinvolta in traffici loschi di addirittura con i propri clienti che sapete clienti di un certo prestigio in America aver aiutato a evadere le tasse americane quindi stiamo parlando di penale e quindi non finiscono i guai perché di Suisse che oltre a poter causare collasso sistemico a livello mondiale potrebbe causare anche altro a livello suo intero quindi proprio improbabile fallimento dovuto a queste situazioni che stavo appunto citando di cose un po' losche quindi riassumendo da un punto di vista lungo termine anche se non propriamente lungo termine è possibile fare una sorta di analisi forecast sul fatto che il prezzo delle materie prime quali per esempio l'oro ben naturalmente di indubbio valore dovranno corrispondere esattamente con la quantità corretta di dollari quindi i dollari attuali che sono 1658 non corrispondono assolutamente al valore dell'oro quindi ci sarà un momento di collasso di criticità del dollaro stesso ma anche dell'euro dove praticamente come valute fiat creperanno crolleranno collasseranno su se stesse proprio perché prenderanno coscienza le persone di avere in mano il nulla mischiato con niente senza alcun sottostante cioè non hanno un qualcosa legato a oro qualche materia prima ma è semplicemente un pezzo di carta che qualcuno ti dice che vale tot ma in realtà non vale nulla e anzi l'inflazione attuale è proprio figlia di queste situazioni quindi assisteremo a un aumento ma molto consistente quindi di diversi valori di ordine di grandezza dell'oro qui non vi sto dicendo di comprare oro attenzione non è un consiglio finanziario sto facendo delle valutazioni sul fatto che viviamo in un contesto inflazionario dove praticamente la valuta perde costantemente valore e questo è dovuto anche soprattutto ai quanti di easing che hanno immesso quantità immensa nei mercati finanziari da ormai troppo tempo troppi anni e quindi adesso c'è il rovescio della medaglia l'ultima goccia che fa traboccare il vaso vedremo di quanto dovrà traboccare questo vaso per quanto invece concerne il sistema più il prezzo dell'oro salirà tanto quanto la fuoriuscita di valore di dollari di euro dal sistema classico azionario obbligazionario fuoriuscirà per andare a finire qui o anche diciamo qui ve l'ho scritto ve l'ho fatto vedere con le indicazioni della freccia è inutile ripetersi o materie prime o criptovaluta ma in valuta stabile euro dollaro o in azioni obbligazioni credo che ci sarà la fuoriuscita proprio la moria e quindi perdita praticamente lo farai dissanguare il sistema classico a fine proprio di rinascere in un altro sistema probabilmente accadrà una cosa del genere grazie per avermi ascoltato e quindi grazie per i vostri like vi ricordo basta cliccare il punto perché non vi costa nulla un pollice su e se naturalmente vi interessa ricevere periodicamente i messaggi e i video e le notizie iscrivetevi al canale e attivate la campanellina come sempre ragazzi grazie ancora so che non vi costa nulla iscrivervi o attivare la campanella perché è gratis però a me naturalmente dà un effetto non solo di di interesse ma soprattutto di misprona a fare sempre meglio e nuovi video ciao e grazie alla prossima buon weekend se non ci dovessimo sentire ossia se non ci sono notizie importanti